Dopo l'arrivo di alcune cartelle di Equitalia relative a mancati pagamenti di infrazione al codice della strada e a pedaggi autostradali, si accorge di essere intestatario di veicoli di fatto mai posseduti. È morto a 84 anni Marcello Palmieri, ex prefetto di Campobasso, originario di Riccia, sposato e padre di tre fili, persona di cultura da tutti considerata disponibile e cordiale, era stato colpito da un brutto male al quale si è dovuto arrendere. Anche quest'anno, a 74 anni dal tragico bombardamento, la città di Venafro ha ricordato le sue vittime in una solenne commemorazione. È Donato Toma, già assessore esterno al comune di Campobasso con la giunta di Bartolomeo e attualmente assessore esterno nell'amministrazione di Boiano, il candidato presidente del centrodestra. Grazie a tutti.